Al Cineteatro Garibaldi, in occasione della Settimana Internazionale della Danza, prevista dal 23 al 29 aprile, sarà proiettato il film Roberto Bolle, L'Arte della Danza. Ballerino italiano appassionato, carismatico ed apollinio, Roberto Bolle è l'artista che ha regalato all'arte della danza l'entusiasmo. L'etuale italiano del teatro alla Scala di Milano e principal dance dell'American Ballet Theatre di New York. Bolle ha portato il balletto ancora più vicino al grande pubblico ed attraverso la bellezza del movimento ha saputo rivelare in modo sorprendente il potere comunicativo della danza, ad arricchire il film, interviste, riprese delle varie fasi di lavoro, spettacoli e riflessioni personali dell'artista. Perché Bolle, staccanovista della disciplina, si affida alla danza abbracciandola come dispensatrice d'armonia ed equilibrio e come fonte costante di rinascita. La danza, un credo da condividere con il pubblico, così Bolle vive il suo compito d'artista. Le proiezioni del film al Cineteatro Garibaldi inizieranno lunedì 23 aprile con i seguenti orari 18.30, 20.30 e 22.30.